Signori, quest'oggi giochiamo a Re Saffa, un nuovo gioco di Succi, ovviamente quando c'è lui vogliamo vedere che cosa fa e dopo Evacuation vogliamo ritornare nell'animo German più puro, abbiamo preso quella deviazione, quella sperimentazione che nell'umanità ha suscitato emozioni positive e negative ma comunque le emozioni di emozioni ne ha suscitate un gioco che mi sta infoniando particolarmente anche perché il solitario è veramente molto snello da gestire e come altri giochi di Succi di solitario è una corsa ai punti cioè fare raggiungere un certo obiettivo di punti a fine partita siamo nel terzo secolo a.C. e questa fiorente cittadina, villaggio, città, insediamento di Re Saffa che nel Medio Oriente nei giorni nostri si trova la Siria, grande snodo commerciale e noi siamo appunto dei commercianti che si muoveranno per queste città, andranno a commerciare, vendere, comprare risorse ed ottenere ricchezze vediamo appunto la città di Re Saffa con tutti questi collegamenti nelle varie città ognuna delle città ha una di queste tessere che sono le tessere commercio che serviranno per vendere e comprare risorse la mappa è naturalmente double sided e questa è quella per uno o due giocatori poi qua sotto abbiamo i workshop, i workshop che sono di due livelli ad inizio gioco sono disponibili solo quelli di livello 1 ogni workshop ha due zone, una a sinistra e una a destra serviranno per produrre risorse oppure per scambiarle quelle di livello 2 diventeranno disponibili più avanti nel gioco abbiamo quest'area qui che è praticamente il canale qua noi andiamo a costruire le nostre tessere canale andremo a raccogliere quest'acqua, questi cubetti blu che vedete e durante la fase Rain che avverrà alla fine del secondo, quarto e sesto round quest'acqua scenderà e farà punti ai giocatori giocatori che possiedono appunto dei canali che attraversano attraversati da quell'acqua ora qua a sinistra vedete le carte bonus ci sono quattro colori di gioco sono questi quattro colori qui le carte bonus appunto sono di livello 1 e in seguito di livello 2 si rivelano tre carte per colore queste carte hanno un effetto istantaneo come vedete dal fulmine per modo di dire perché tutte le carte istantanee possono essere trattenute e giocate anche nei turni successivi, nei round successivi stessi colori invece li trovate in basso qua sul tabellone queste invece sono le carte speciali le carte speciali a seconda del colore danno vari bonus per esempio quelle bianche sono normalissime effetto istantaneo con naturalmente effetti più potenti e interessanti delle carte bonus quelle blu possono contenere anche dei bonus permanenti quelle rosa sono tutti i scoring di fine partita mentre quelle gialle sono potenziamenti delle carte di base che hanno i giocatori ogni giocatore ha un suo mazzo di partenza quindi devi scegliere una lettera greca e avrà sei carte all'inizio del gioco mescola le carte e ne pesca tre plancina del giocatore abbiamo delle monete iniziamo con delle monete che stanno al di fuori due e abbiamo un'area di magazzino che è questa qua dove teniamo tutte le risorse grezze e raffinate in questi spazi metteremo i segnalini mercante che diventeranno moltiplicatori di punti a fine partita in base a vari elementi come la costruzione di giardini di workshop e di canali e poi questo tracciato che sono i cammelli che andrà a determinare quante risorse possiamo trasportare con il nostro cammello ora il gioco dura sei round come indicato qua quindi partendo da chi ha il segnalino primo giocatore quindi avrò tre carte in mano scelgo una delle carte e la vado a giocare nello slot numero uno le carte come vedete hanno due lati io devo scegliere un lato oppure l'altro per esempio la gioco in questo modo e vado a tenere in considerazione la parte in alto quindi nell'ordine che preferisco farò l'azione del colore quindi il colore che vedete qua nel bordo della parte in alto e poi l'azione principale indicata sotto quindi gli altri giocatori giocano la loro carta io quando finisco il mio turno pesco dal mazzo poi gioco la successiva poi pesco dal mazzo vado a giocare poi la terza carta e pesco l'ultima carta dal mazzo quando tutti i giocatori hanno giocato tre carte finisce il round quindi avanzerà l'indicatore di round alla fine del primo, terzo e quinto round i giocatori hanno giocato tre carte di sei girare dall'altro lato alla fine di ogni round sia pari che dispari bisogna svuotare completamente le carte bonus residue eventualmente rimaste che si andranno a rifillare dal mazzo parte quindi il secondo round e di nuovo avrò tre carte in mano non avrò più carte da pescare ovviamente seconda azione, terza azione abbiamo sempre sei carte nel mazzo quindi faremo tre azioni il primo round altre tre azioni il secondo round e così via quindi alla fine del secondo, quarto e sesto round di gioco ci sarà uno score intermedio come vedete da questa icona qua che è chiamata la rain phase che significherà appunto fare scorrere l'acqua e guadagnare punti in base ai nostri canali ricordate che alla fine di ogni round ogni singolo round bisogna svuotare questo display di carte bonus dalle carte rimaste e rifillare quindi come si svolge il turno? abbiamo detto gioco una carta farò nell'ordine che preferisco l'azione colore e poi l'azione principale allora quando faccio l'azione colore devo scegliere fra queste tre possibilità la prima possibilità è quella di prendere una carta bonus del colore corrispondente in questo caso è rosa questo colore qui e vado a scegliere una delle carte qua dal display questo display di carte viene rifillato solo alla fine del round seconda opzione colore per qualsiasi colore andarsi a prendere una carta sacchetto di questo non c'è un display prendo semplicemente la prima carta in cima queste carte sacchetto vengono tenute in mano possono essere utilizzate instant per applicare l'effetto sopra oppure possono essere scartate per guadagnare un punto ora il limite di carte in mano è strettamente 5 questo include le carte di base eventuali altre carte azione dalle carte speciali gialle che comunque andranno in mano le carte bonus di qualsiasi colore e le carte sacchetto tutto questo rientra nella capacità di mano le altre carte bonus queste qui dovranno essere giocate di fronte a noi scoperte e quindi non rientrano nel limite di carta in mano ultima opzione colore è far avanzare di uno spazio l'indicatore del colore corrispondente ho giocato una carta rosa faccio avanzare di uno il mio indicatore verso destra ora nel momento in cui raggiungo questo spazio qui vado a reclamare una carta speciale quindi da qui prenderò una carta speciale rosa di livello 1 posso prendere la carta in cima al mazzo quando prendo la carta in cima guadagno anche un punto e una moneta come indicato oppure se non mi piace quella carta posso ravanare nel mazzo e ce n'è 4 per stack e scelgo la carta che voglio rimescolo e rimetto in cima quella che c'era in cima ma in questo caso siccome non ho preso la carta scoperta non ottengo questi bonus qui come ho detto queste carte qui vanno di fronte a noi quindi non rientrano nel limite di carte in mano le carte istantanee queste qua bianche ed alcune carte blu dove c'è il fulmine vengono tenute di fronte a noi quando voglio istantaneamente o anche in un round turno successivo le gioco queste carte vengono tenute a faccia in giù quando usate perché vedete che alcune hanno i punti questi sono punti di fine partita stessa cosa naturalmente vale per le carte rosa che tengo di fronte a me scoperte perché sono tutte condizioni punti extra di fine partita per quanto riguarda invece le carte gialle se prendo una carta di livello 1 quella carta andrà a sostituire la carta corrispondente del mio mazzo base vedete che questa carta qui ha le stesse identificazioni di questa qua che ho giocato quindi questa carta praticamente quella di base verrà rimossa la sostituisco con questa qui più potente queste più potenti hanno una cosa aggiuntiva ovvero un bonus indicato qua nel mezzo nel momento in cui giochiamo la carta ora questa carta la posso sostituire dalla mano quindi se questa carta per esempio è in mano o anche se è nel mazzo quindi metti questa carta qui nel mazzo io vado a cercare quella carta dal mazzo la rimuovo la carta che quindi prendo come sostituzione va subito in mano alla fine del mio turno quindi la ottengo immediatamente come capirete bene conviene fare questa cosa di carte o che ho in mano o che sono nel mazzo perché questo bonus in mezzo lo ottengo solo quando gioco una carta quindi se è stata già giocata qua nel display quel bonus è perduto come vedete le carte di livello 2 ok hanno un punto interrogativo quindi sostituiscono qualsiasi azione mentre quelle di livello 3 sono più potenti perché posso fare due azioni diverse a mia scelta prima o dopo l'azione colore vado a fare l'azione principale allora questa qua è l'azione workshop mi consente di costruire un nuovo workshop a inizio partita posso fare soltanto quelli di livello 1 scegliendo fra queste tre anche questa qua in cima allo stack quelle di livello 2 si possono fare solo a partire dal round numero 3 come vedete da questo simbolo qua quando entriamo nel round numero 3 questo display viene riempito ovviamente di due slot e quella in cima allo stack tuttavia i giocatori non possono costruire workshop di livello 2 fin quando non hanno due mercanti ok che sono questi qua sono di due tipi sulla propria plancia personale vedete che c'è questo simbolino qua questo ci indica che ci devono essere due mercanti per poter costruire i workshop di livello 2 quando costruisco un workshop indipendentemente dal livello pago questo costo una moneta una pietra scelgo uno dei workshop lo prendo ora di workshop ne abbiamo due iniziali che sono questi qua con una s piccina i workshop anche nel setup iniziale devo metterli in diagonale quindi punta angolo contro angolo quindi quando prendo un nuovo workshop questo qua lo posso ruotare come desidero e capiremo poi il criterio di fare questa cosa e posso anche girare la tessera quindi metterla dall'altro lato per esempio posso decidere di mettere questa in questo modo qui oppure la giro e la metto deve stare in diagonale deve stare in diagonale perché negli spazi di mezzo come vedremo dopo andranno a finire i nostri giardini ora i workshop hanno sempre due stanze che verranno attivati appunto con la fase di produzione cioè azione e produzione che vediamo fra un attimo e tutto intorno ci sono questi bonus che vengono ottenuti quando giochiamo i giardini dall'altro lato e l'altro lato è uguale per tutte ci fanno ottenere due punti quando produciamo che è la parte di sinistra questo simbolino qua invece indica un incremento di produzione come vedremo fra un attimo con l'azione di produzione le tessere di livello 2 sono naturalmente più potenti perché la produzione che vedete indicata sulla tessera la riceviamo anche immediatamente non appena costruiamo la tessera e poi ovviamente la riceviamo quando andiamo a produrre passiamo quindi all'azione di produzione questa azione mi consente di attivare due workshop diversi devono essere diversi quindi io posso per esempio attivare una delle due stanze di questo e una delle due di questo oppure questo e questo qua non posso attivare lo stesso workshop due volte prendere un cammello e guadagnare due monete posso che ne so guadagnare un cammello da questo e da questo posso scambiare una pietra con due argille devono essere due diverse ora le monete abbiamo detto vanno nella nostra riserva esterna tutte le altre risorse che noi produciamo grezze raffinate vanno a finire nel nostro magazzino qua sulla nostra plancia quando tengo dei cammelli significa incrementare questo indicatore qua ora nel momento in cui ho una più tessere girate da questo lato di livello 1 a livello 2 come vedete da questo simbolo incremento la mia produzione significa che posso fare una produzione in più due di base come indicato dalla carta più uno per ognuno di questi simboli e come al solito devono essere workshop diversi quindi in questo caso ne faccio tre faccio una, due, tre attivazioni attenzione che ci sono alcune carte speciali ma anche carte bonus che ci consentono di fare delle produzioni e c'è proprio il simbolo di produzione in quel caso e solo in quel caso possiamo riattivare una tessera già attivata poi abbiamo l'azione provvigione che è questa qua scelgo o una carta qualsiasi una carta bonus qualsiasi dal display oppure un avanzamento qualsiasi su uno dei tracciati oppure vado a pescarmi una carta sacchetto dopodiché abbiamo l'azione giardino ci consente di costruire un giardino allora abbiamo i giardini grandi che sono questi qui e i giardini piccoli per costruire un giardino piccolo una pietra giardino grande una moneta e una pietra per esempio costruisco un giardino questi vanno fra un workshop e l'altro in questo modo qua ovviamente decido io come piazzarlo decido anche l'inclinazione può andare in verticale o in orizzontale ora se col mio piazzamento vado a collegare questi bonus che vedete collegati ai workshop ottengo subito quei bonus in questo caso con questo piazzamento guadagno un punto e una moneta così guadagno una moneta e un'altra moneta nel momento in cui completo un giardino quindi con tre giardini piccoli o uno grande e uno piccolo ottengo di nuovo tutti i bonus collegati in questo caso un punto una moneta e anche una pietra da qua inoltre completare i giardini ci dà un bonus in base a quanti ne abbiamo completati ho completato il primo e ho un avanzamento su un tracciato qualsiasi al secondo un avanzamento due punti e così via poi passiamo all'azione costruzione del canale allora quando faccio quest'azione io scelgo una delle tessere che ho qua scelgo io la tessera che voglio vado a pagare il costo indicato in alto sinistra che è moneta e argilla e lo vado a piazzare in un qualsiasi qualsiasi spazio libero ora in base a dove mi piazzo vado a prendere i punti immediatamente alcuni spazi come questo mi danno uno sconto in questo caso tre punti e lo sconto di un'argilla ho questo sconto qua e piazzo la mia tessera nel momento in cui mi piazzo sopra una di queste tessere bonus piazzate all'inizio gioco prendo la tessera e la tengo da una parte questa come le carte può essere spesa immediatamente o trattenuta spesa più avanti nel gioco se mi metto in una di questi spazi esterni dove vedete il cubetto blu vado a raccogliere sopra la mia tessera quel cubetto blu quel cubetto quindi l'acqua, la pioggia scorrerà durante la fase pioggia ora due di queste tessere e dovrò scegliere bene sono dei collettori d'acqua lo vediamo da riassunto qua dietro quindi possiamo giocare la tessera da quest'altro lato che ha un costo maggiore ma è molto più vantaggioso perché andrò a piazzare la mia tessera su uno di questi spazi più in basso che come vedete dà 7-8 punti quando viene piazzata e in aggiunta andrà a raccogliere tutta l'acqua che gli finirà dentro vediamo dopo come funziona passiamo quindi all'azione commercio che è indicata da questa stretta di mano allora con questa azione prima di tutto io devo muovere il mio cammello deve essere mosso con il movimento io vado a pagare una moneta per ogni intersezione che attraversa per esempio da Resafa io voglio andare ad Alessandria sono due intersezioni e pago una o due monete e quindi raggiungo la posizione vado a commerciare quindi in quella città scelgo una delle opzioni non entrambe vendere risorse oppure comprare ora nel momento in cui inizio a Resafa oppure anche solo transito da Resafa posso caricare il mio cammello con le merci come detto inizio partita le monete sono al di fuori una riserva esterna mentre tutte le risorse grezze e raffinate sono nel mio magazzino questo magazzino si trova a Resafa durante questa azione io posso caricare il mio cammello anche solo transitando da Resafa può ottenere tante risorse quanto è il mio livello qui indicato da questo indicatore inizialmente uno nel momento in cui ne abbiamo di più fino a un massimo di 7 devono essere tutte risorse dello stesso tipo quindi io ne posso caricare anche 7 ma devono essere tutte uguali ora quindi arrivo ora quindi arrivo in una posizione scelgo di vendere o di comprare per esempio scelgo di vendere qua le spezie in questo caso mi dice ogni spezia che vendo mi fa 3 monete e 3 punti ovviamente in base alla capacità del nostro cammello o di quante ne ho trasportate fino alla città poi c'è un effetto istantaneo che otteniamo una tantum indipendentemente da quante risorse abbiamo venduto 3 spezie faccio quindi 9 monete 9 punti più altri 3 punti oppure posso comprare spendo monete in qualsiasi numero di volte e carico sul cammello ovviamente ne carico in base ne posso comprare in base alla capacità del mio cammello ogni volta che interagisco con una città e faccio un commercio quindi vendo o compro non quando transito ma quando faccio una transazione la tessera gira dall'altro lato e cambia un po' la questione solitamente qua vedete che è vantaggioso la vendita dall'altro lato invece è più vantaggioso l'acquisto ora abbiamo detto che io posso transitare a Resafa per caricare le risorse per esempio ammetti che io inizio il mio turno a Gerasa che è questa città qui ma il mio cammello non ha niente ok non ha risorse però io voglio commerciare con Gerasa la cosa che posso fare è pagare una moneta andare a Resafa caricare dal mio magazzino per esempio le spezie richieste da Gerasa e poi tornare indietro nello stesso turno a Gerasa per vendere quelle risorse ma attenzione questo pagamento qua di questa intersezione qui la pago una volta sola ok quindi se la riattraverso una seconda volta non devo pagarla una seconda volta per esempio io parto da questa città ok devo muovermi e che non so voglio andare a raccogliere delle risorse e venderle in questa città qua allora che cosa faccio pago 1 2 3 monete per arrivare a Resafa ok carico le risorse poi faccio 1 2 3 movimenti per andare lì a commerciare ma siccome questo segmento e questo li ho già pagati attraversandoli all'andata io da qua questo l'ho già pagato questo l'ho già pagato dovrò pagare un'altra moneta per questa intersezione qui durante il movimento posso ritornare di nuovo rifare i stessi segmenti però li pago una sola volta per azione ora quando faccio una transazione in una città ho la possibilità opzionale di costruire un trading post e anche ricordato sulla plancia giocatore eccola qui mi costa una pietra e una moneta praticamente io vado a vado a mettere un mio cubetto in uno spazio di quella città ce ne sono due per città ovviamente sono spazi esclusivi questa roba qui mi fa guadagnare il segnalino mercante corrispondente che sono questi o questi qua in aggiunta ci sono anche dei bonus forca miseria che vedete qua per esempio un sacchetto sta nel secondo spazio allora i mercanti che vengono piazzati qua dopo i primi due inizierò poi a metterli in questa griglia qua da sinistra verso destra e sono tutti dei moltiplicatori di punti a fine partita a fine partita farò due punti per ogni giardino e così un punto per ogni giardino e un punto per ogni workshop e questi invece sono i canali quindi questo è un moltiplicatore di punti in aggiunta i mercanti con questo simbolo tipo scarabeo forniscono punti addizionali a fine partita in base a quanti ne abbiamo e ricordatevi che per piazzare i mercanti su questa griglia qua devo piazzarne almeno due quindi nel momento in cui qua questi due sono occupati posso iniziare a mettermi sulla griglia passiamo quindi alla fine del round ovviamente ripeto il display qua deve essere scartato rifillato alla fine del secondo quarto e sesto round c'è la fase rain in cui si vanno a valutare appunto i canali e si fa scendere l'acqua e ora prima di tutto ogni giocatore guadagna un punto per ogni canale tessera canale che ha qua sulla plancia dopodiché le eventuali acque raccolte col piazzamento delle tessere devono scorrere allora devono scorrere seguendo appunto le tessere e se non ci sono le tessere seguono il flusso naturale del fiume per esempio se io mi sono messo così farò due punti più un punto perché si valuta anche i simbolini punti sulle tessere e questa può scendere dritta lungo questo percorso oppure siccome c'è una ramificazione questa esce arriva qui e continua a scendere siccome non ci sono più tessere seguendo il flusso naturale del fiume quindi va a scendere in questo modo ora quando scende quest'acqua mi fa dei punti mi fa un punto per ogni tessera che ha attraversato poi il giocatore che fa l'azione che quindi ha determinato il movimento del cubo perché ovviamente se ci sono più possibilità posso ottenerne un vantaggio quel cubo andrà a finire nella mia riserva perché può essere valutato da alcune carte di fine partita che sono quelle rosa arriviamo quindi alla fine del sesto round c'è la fase reine come al solito poi c'è lo score in finale prima cosa che si va a valutare sono gli scarabèi cioè le tessere le tessere qua mercante con questo simbolo in base a quante ne abbiamo poi abbiamo questi moltiplicatori qui i mercanti che abbiamo messo qua appunto come detto prima vanno a moltiplicare quantità di giardini workshop e canali poi valutiamo le carte rosa poi tutte le icone punti che abbiamo sulle carte di fronte a noi poi vediamo in realtà tutto riassunto qui le risorse raffinate quindi anfore e spezie valgono un punto tutto il resto soldi monete argilla ogni 5 un punto e poi facciamo punti in base a quanti canali abbiamo costruito e andiamo col solitario allora il solitario ha un suo mazzo di carte che si può gestire veramente velocemente alla velocità da urlo lui praticamente mette giù pezzi mette cubetti qua non ha il cammello perché lui non commercia mette solo i cubetti come trading post un solitario che è un obiettivo di punti 150 punti per un ok score poi 200 per un very good 220 per un excellent diciamo che io la prima partita ho fatto 109 quindi un po' schifelline che cosa che cosa fa il bot guarda una roba molto semplice gira questa carta qui andiamo a vedere la freccia la freccia può indicare o la parte superiore o la parte inferiore in questo caso indica sta parte prima di tutto fa l'azione colore quindi l'azione di questo di questo colore qua in questo caso se c'è questo simbolo significa che toglie via una carta e quindi come ci indica l'illustrazione la carta più a sinistra alcune carte ci dicono che avanza di 2 nel tracciato corrispondente poi va a fare l'azione principale in questo caso è l'azione di produzione ora il bot ignora la produzione e la costruzione giardini sono azioni che non fa quando capita una di quelle robe lì invece va a fare l'azione della carta destra che è delineata in rosso in questo caso la parte sotto qua che è l'azione commercio l'azione commercio significa banalmente mettere un suo cubetto nella prima città indicata se è tutto pieno va nella seconda metto qua giro la tessera vado a giocare una carta sarà questa qua allora posso prima di tutto faccio l'azione l'azione colore allora l'azione colore potrei avanzare in questo tracciato qui ma in questo caso vado a recuperarmi una delle carte del colore corrispondente allora questo allora due pietre due monete andiamo giù con le pietre allora questa la spendo subito ovviamente mi guadagno subito le mie pietre quotidiane dopodiché facciamo l'azione workshop posso costruire una di queste di queste tre pacco una moneta e una una pietra direi che provo con questa sì allora vediamo come piazzarla perché qua c'è da vedere anche i vari bonus allora io la metto no la metto così per quella la metto così così per le monete buono finito il mio turno vedi che roba vedi che roba tac allora quindi lui qua va avanza di due in questo colore qui e poi fa l'azione che cos'è l'azione provisions allora qua dipende in questo caso lui avanza un tracciato se ne frega delle carte delle carte sacchetto e andiamo a vedere questo simbolo se c'è un uguale va avanzare nel tracciato corrispondente in questo caso lui avanza nel tracciato appunto della carta quindi va qui e se ne frega delle carte semplicemente la scala rimuove me la toglie dalle mie grinfie e va a rivelare quindi quella di livello 1 e adesso anche quelle di livello 2 diventano visibili mi sono dimenticato di pescare una carta produzione due diverse vediamo che cosa posso fare di questa vorrei attivare questa e mi prendo una spezia anche tre pietre non so male però magari vado per le due monete si due monete poi azione colore allora azione colore questo colore qua potrei avanzare qua iniziare a lavorare qui per prendermi queste carte però guarda ci sono delle robe interessanti di questa mi dà una spezia questo mi dà uno scarabemercante scarabeo chiamalo come desideri io prendo questa e mi guadagno subito un'altra spezia allora la parte la parte in alto toglie la carta rosa più a sinistra fa l'azione qui ha una posizione di partenza perché lui inizia già con un canale già piazzato c'è un suo cubetto che determina l'ultimo piazzamento a partire da quell'ultimo piazzamento lui va verso la direzione della freccia indicata qua quindi va verso sinistra lui ha uno stack di tessere semplicemente la butta giù lui non fa punti come ben potete immaginare noi servono i punti perché i punti devo fare io io vorrei fare un altro provo con un altro workshop allora prima azione blu avanziamo qua dai avanziamo qua perché qua c'è della roba buona allora workshop di nuovo una moneta una pietra allora ne voglio prendere ne voglio prendere una che sarà per esempio questa qui però la voglio mettere dall'altro lato così pimpo un attimo la produzione vediamo si qua per le monete non è male io la metterei in questo modo qua facciamo così si allora quindi abbiamo fatto attrazione a testa passiamo al round successivo le mie carte le vado a coprire andiamo a scartare tutto quello che c'è qua allora il primo giocatore passa a me io ho queste tre carte dove no l'ultima non l'ho pescata vediamo che cosa fare allora quindi vado a costruire un giardino prima di tutto ho il roseo posso scegliere una di queste carte ma guarda io inizio ad avanzare sul tracciato qua perché le carte di fine partita sono quelle che fanno incassare un po' di roba il giardino io vado a fare con una moneta e una pietra un giardino grande quindi collego questi due spazi qui mi faccio due monete rosa quindi carta rosa più a destra poi abbiamo il commercio lui commercia va ad Alexandria allora prima di commerciare io vorrei fare un'altra produzione e in questo caso posso scegliere una di queste la carta sacchetto è un avanzamento che dovrebbe essere questo colore qua questo mi dà uno sconto quando faccio quando faccio il canale questo mi fa con una pietra costruire un pezzo di giardino per completare le cose io prendo questa qua che va in mano poi andiamo a produrre due produzioni più una perché ho costruito questa roba qua allora prima cosa vado qui attivo questo ho un cammello assolutamente poi voglio le pietre mi faccio tre pietre allora ultima io posso andare di nuovo qui guadagnare uno di questi oppure iniziare a fare un po' di argilla ecco perché l'argilla non è da sottovalutare perché consente di fare i canali quindi io attivo per esempio questa qui spendo una pietra faccio due argilla e un punto poi vediamo qua tac allora abbiamo prima di tutto quel colore qua toglie via la carta di mezzo poi il giardino che in realtà non fa e farà la parte sottolineata in rosso significa costruzione e canale verso l'alto ultima carta per me vado a fare un commercio allora tracciato blu tracciato blu abbiamo detto che potrei avanzare sul tracciato blu perché sto lavorando lì ma abbiamo delle belle carte anche qua questo ci dà una produzione queste due carte sacchetto guarda io prendo due carte sacchetto vediamo un pochino allora monete per argilla e pietre per punti ci può stare siccome poi il mio limite è 5 io questa qua la gioco subito quindi do una moneta per un'argilla allora poi andiamo a fare uno scambio voglio vendere le spezie allora per vendere le spezie per esempio verso questa direzione qua adesso la vendita non è conveniente piuttosto vado ad Alexandria che mi dà anche 3 monete 3 punti non è male rispetto a questa città qua che mi dà ah vendo pietre io vorrei andare qua quindi do due monete perché sono due spazi tac poi vendo ah intanto ovviamente a Re Saffa io ho caricato due spezie due perché il mio indicatore dice due tac metto sopra vendo due di queste spezie ogni spezie mi dà tre monete e tre punti quindi faccio sei points e sei monete e in aggiunta non ci dimentichiamo i tre points istantanei indicati dal giallo dopodiché pago una moneta e una pietra e vado a fare un mio outpost in quella città l'unico che rimane allora questo qua mi dà un punto come indicato qua e mi fa mettere un commerciante qua sulla mia plancia iniziamo a lavorarci su allora ultima su azione ovviamente fa sta roba qua e allora toglie via carta blu più a destra e poi fa di nuovo un canale allora finisce il round in questo modo qui il primo giocatore passerà ovviamente si avanza qua si fa questo scoring che banalmente per me è nullo cioè lui che vabbè il bot non fa punti scende lungo questo percorso l'acqua se ne va scusate il cubetto blu e io le mie le mie sei carte le riprendo tutte in mano quindi queste tre vengono aggiunte alla mia mano con una carta sacchetto e una carta bonus che è questa qui allora abbiamo carta giallognola più a sinistra poi fa l'azione giardino che in realtà non fa e farà l'azione quella evidenziata in rosso quindi un cubetto su guerra con la città se ne è presa tutta lui non mi ha lasciato nulla ora anche io vorrei iniziare a fare un po' di canali ne allora canali quindi gioco questa carta di questo colore qua potrei avanzare lì ma invece io ho una di queste carte qua risorse raffinate che non è male ma questa mi da un mercante un mercante lo uso subito metto subito il secondo il secondo qui perché poi voglio fare adesso anzi dovevo scoprirle dovevo scoprirle perché da adesso io posso fare i workshop di livello 2 poi canale metto questo qua quindi precludo la possibilità di farlo come water tank va bene la metto qui una moneta anzi due monete un'argilla mi faccio subito 3 points e mi carico l'acqua questa roba qui quindi vado a vedere questo fa avanzare il suo indicatore più avanti allora quello lì quello lì direi che è questo qua boom io gioco questa carta instant si la gioco per una pietra allora con una pietra io vado a fare un giardino piccino senza prendere l'eventuale bonus tuttavia ho il bonus del completamento che in questo caso è un avanzamento su un tracciato a scelta io vorrei continuare su questo qua magari riusciamo a fare qualche cosa poi ho bisogno di produzione perché qua c'è poca roba allora quindi gioco questa questa carta qua per la produzione di questo colore io mi vado a recuperare questa qui assolutamente sì allora poi come al solito ho tre produzioni vediamo che posso posso fare sicuramente le tre pietre perché mi servono mi prendo no mi prendo due monete e poi sì mi prendo sì mi prendo una una spezia oh finalmente fa l'azione del workshop prima di tutto toglie via la carta più a destra di questo colore e non ce n'è più workshop quale togli lo toglie semplicemente dalle mie grinfie quello in mezzo e credo che lui a sto punto vada per quelle di secondo livello via un giardino giardino allora con quel colore lì avanzo di sicuro questo perché almeno un paio di carte di fine partita bisogna averle allora un giardino ne faccio uno piccino che mi costa una pietra e questo qua lo vado a mettere in questo modo qua e guadagno qua due monete e allora togliere la carta gialla più a destra poi va a vedere lì di nuovo c'è quello quindi sale sul trecciato in cui più è più in avanti ah scusa era finito era finito il round era finito il round perché abbiamo fatto tre azioni a testa passiamo il round facciamo quest'azione dopo e adesso qui iniziano a comparire le cartasse di livello 2 io vorrei fare uno uno scambio eccolo qua allora faccio questo blu quindi avanzo qua oh finalmente io mi vado a acchiappare questa carta che mi dice che ogni volta che faccio il workshop guadagno queste risorse qua che posso utilizzare poi per la stessa azione non è male allora prendo quella in cima al mazzo rivelo anche quella successiva anche di livello 2 e siccome ho preso quella si chiama quella in cima guadagno un punto e una moneta questa carta me la tengo di fronte a me perché ha un'abilità permanente dopodiché facciamo uno scambio allora prima di tutto io mi gioco questa carta qui per farmi una spezia e con questa allora potrei vendere qua le spezie potrei ritornare qua a fare avanti e indietro aspetta ma questo non l'ho usato prima doveva essere girata poi perché io ho preso queste cose allora io devo o compro della roba che potrebbe essere anche una possibilità allora io faccio questo un movimento pago una moneta allora vado a commerciare lì la capacità è sempre 2 quindi io posso con 4 monete acquistare 2 anfore e in aggiunta mi faccio anche una moneta e 3 points buono ricordiamoci che questo si gira dopodiché si pagherei una moneta e una pietra mi metto un altro cubetto cubetto qua che mi dà un altro mercante una carta sacchetto e il mercante adesso inizio qua a riempire dove voglio voglio pimpare ovviamente il moltiplicatore dei workshop perché adesso ne ho già più degli altri componenti e poi ho questa carta che mi avvantaggia sulla costruzione dei workshop quindi carta rosa più a destra il workshop centrale a questo punto io vorrei fare un altro canale riesco a fare un altro canale non ho la carta giusta perfettissimo ecco ecco cosa servono le carte gialle di livello 2 ti fanno fare l'azione che vuoi potrei fare un altro commercio a questo punto si commerciamo ancora commerciamo la grande allora rosa rosa quindi forse ho avanzato lui al mio posto perché qua ho avanzato di due volte non diciamo cagate vado lì mi prendo sta carta quindi faccio una moneta un punto che proprio è la carta che in realtà non voglio questa carta qua non faccio una moneta un punto perché al posto di questa carta qua me ne voglio selezionare un'altra più vantaggiosa allora vediamo cosa abbiamo qua non si vede un cazzo allora dieci punti secchi due punti ogni quella sui cammelli però dieci punti secchi schifo non fanno quindi qua riveliamo questa anche quella di livello successivo me la tengo da una parte buono allora poi andiamo a fare il commercio io posso vendere anfore posso andare a vendere anfore che devo però caricare re safa vediamo quali sono le possibilità più spisse allora qui abbiamo un punto cinque monete ad anfora un punto una moneta quattro punti però mi dà anche tre monete un punto questa non è vantaggiosa quindi una di queste due direi che io punto sui punto sui punti e sì no vado qua allora quindi da lì pago una moneta più un'altra più un'altra moneta a re safa vado a caricare le due anfore vendo vendo queste due anfore mi prendo 10 points più due monete qui più una moneta extra ok quindi giriamo sta roba qui tac pago di sicuro una moneta e una pietra mi vado a piazzare questo o no io direi prendo questo e mi prendo uno dei mercanti scarabeo che sono anche points aggiunti alla fine partita vorrei continuare a pimpare adesso questa roba qua continuiamo a fare almeno uno di questi poi gli altri magari ci penso dopo ultima azione sua ma lui era il primo giocatore mi sono dimenticato qualcosa possibile siccome c'è un po' di disagio allora avanzamento di due sul tracciato questo qua ok poi fa l'azione canale di nuovo verso il basso e verso il basso per forza di cose lui è incredibile mi ciula questo qua tanto lo scarta che ne frega ma toglie il posto questo è l'ultimo che ha fatto e tra l'altro non si carica lì non carica l'acqua va bene ultima mia azione vediamo che cosa mi è rimasto workshop oppure provvigioni direi carta di questo colore qua potrei avanzare qui che anche qua non sono male questi bonus che è un altro workshop con lo sconto di una moneta voglio dire ok azione workshop quindi di livello 2 di livello 2 attenzione non posso fare questa cosa perché non ho pietre porca la puttanaccia non ho pietre questo non avanza e devo girare questo facciamolo dall'altro lato allora quindi blu vediamo se mi serve una carta blu proviamo a vedere le carte blu un altro di questi che non è male per i moltiplicatori qua una moneta e un cammello cioè i cammelli sono magari non l'attivo con la si si prendo una moneta e un cammello e andiamo o prendo una carta scelta fra queste qui o faccio un avanzamento a scelta una carta sacchetto siccome non sono andato avanti qui vorrei andare avanti qua questo purtroppo non si riesce a fare tutto direi che a questo punto finisce il round c'è la fase si c'è la fase si svuota tutto ma c'è questa fase qua allora tenendo in considerazione questa fase qua punti in base a quanti ne abbiamo fatti più i punti indicati sopra la testa in questo caso per me è solo uno scende qui la farò scendere dritta perché non ha altri non ha altri versi faccio un semplice punto per sta roba qua ci sono varie cose non troppe però se punti su questa roba qua non fai tanto bisogna vedere quindi si scarteranno le carte come al solito scarto le mie eccetera il gioco alla fine è questo è cercare di capire come giocare queste carte qua sotto perché c'è una doppia valenza anche per quanto riguarda i colori quando ci sono i colori è sempre una scelta come vedete non è facilissimo salire tra l'altro una cosa che mi sono dimenticato di questi tracciati qua quello a destra quello rosa lo puoi portare a livello massimo senza problemi gli altri per tre puoi arrivare a livello uno solo di due puoi arrivare a livello due e solo di uno puoi arrivare a livello tre anche perché come vedete gli avanzamenti non sono così così elevati cioè non li fai tanto magari ci sono certe occasioni in cui dici oh guarda c'è la carta giusta per me e quindi al posto di avanzare sul tracciato mi prendo la carta che sono cose buone voglio dire anche a livelli superiori risorse mercanti soldi sconti di azioni cioè questa qua è tutta roba buona però è altresì buona le robe che vedete qui cioè robe istantanee fare due workshop in un colpo avere degli sconti sulle azioni e poi la carta di fine partita ovviamente soprattutto per il solo dove devi raggiungere 13 punti secchi capisci che lì fai tanto e questa cosa qui che io ho ignorato non è da sottovalutare perché questo sostituisce l'azione di base con anche bonus al centro e poi di livello 2-3 hai poi le azioni a scelta insomma un gioco che ti mette di fronte poche cose però ben condensate perché è tutto è tutto lì insieme cerchi di fare un po' di tutto non puoi eccellere in nessuna cosa ma devi fare un po' di tutto insomma è proprio un gioco che mi garba mi garba un casino bravo Succi un ottimo lavoro ritorniamo ai diciamo ai fasti germanofili i fasti germanofili quindi tutti i germanofili qua sguazzeranno nel loro poi dici non trovo nulla di innovativo tutte ste balle qua che si potrebbe dire per la maggior parte dei giochi moderni idee ben condensate non troppo casino su schermo bel gioco assolutamente consigliato e questo qui era re sa fa e ci vediamo per un altro gioco saluti iiii iiii iiii